Amplificati dalle volte a botte, i canti di ben due cori, il Vivaldi e il Joyful Soul, hanno festeggiato l'apertura di un nuovo negozio nel cuore di Sassari. Profumo di Sardegna, quindicesimo store di una catena di punti vendita, inaugurato in musica la nascita di uno scrigno prezioso, con la sua linea di prodotti di bellezza a base di bava di lumaca, profumi, gioielli, abbigliamento per il tempo libero ed esclusivi cappi sartoriali. L'idea vacanziera ha riscosso grandi consensi nei villaggi turistici e oggi sposa la città grazie alla tenacia di un'imprenditrice sassarese, Maria Rita Somo, che ha voluto al suo fianco lo stilista Roberto Stella, al quale ha affidato la direzione creativa. Profumo di Sardegna è un prodotto originariamente destinato al mercato di turisti per lo più stranieri, ma è soprattutto l'essenza dell'isola, con le sue peculiarità, la sensazione di benessere che si ha quando si arriva in Sardegna e ti investe quel sapore di elicriso, i colori, la luce, l'originalità di una terra inimitabile. Ieri al negozio di Via Carmine, la presenza di tanti amici che hanno voluto festeggiare l'apertura di un negozio in quel centro storico che tutti sperano possa ritornare a risplendere. E le feste natalizie sono un buon periodo per credere in un progetto comune che dia nuova linfa a una città che deve ritornare a svolgere il suo ruolo di capoluogo con negozi di qualità, iniziative culturali e una gastronomia all'avanguardia nel rispetto delle tradizioni, come quella curata da Spianà di Fabio Nurra, che ha curato il catering dalla serata.